Con l'avvio dei cantieri il 25 novembre il progetto del Parco del Mare di Rimini entra nel vivo, quasi in contemporanea con l'avvio del metro di costa, una riorganizzazione del frontemare da lungo attesa. La riqualificazione dei 15 km di lungomare riminese ne prevede la completa pedonalizzazione con l'inserimento di aree verdi, culturali e ricreative, un luogo che secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale vuole essere vivo 365 giorni l'anno favorendo la destagionalizzazione. Con l'accordo territoriale tra comune, regione e provincia approvato il 3 novembre in commissione consigliare, le RUSP partono dal lungomare Spadazzi a Miramare e in seguito su lungomare Tintori tra i piazzali Fellini e Kennedy. L'obiettivo è averli pronti entro la stagione balneare del 2020. A Rimini Nord gli interventi dovrebbero cominciare all'inizio del prossimo anno, ad aggiudicarsi in via provvisorie lavori il consorzio imprese romagnole. Il piano prevede fra le altre cose la riduzione complessiva delle superfici coperte degli stabilimenti balneari di almeno il 10% e se a Rimini Sud verrà attuata una riduzione superiore, a Rimini Nord la superficie coperta potrà subire modesti incrementi. Gli hotel poi sono chiamati a ribaltare i loro ingressi principali sul lato mare e non più su quello dei viali. Altro aspetto che rivoluzionerà le abitudini dei riminesi è la riorganizzazione della mobilità che dovrà svilupparsi secondo uno schema detto a stanze, ovvero facendo in modo che la via che corre parallela al mare diventi una strada di distribuzione ai vari quartieri e non più un'arteria di scorrimento.